da oltre 40 anni vestiamo i grandi campioni e siamo a Lissone con la piccola coppa Agostoni manifestazione avversata dal maltempo quattro atleti ce ne vanno Fedi, Bocchiola, Novikau e Gobbi quattro atleti che continuano la loro azione Fedi, Bocchiola, Novikau li vedete in questo momento dalla ripresa dalla telecamera fissa l'atleta della Bata, i portocolori del Team Colpac e poi il gruppo che va ad inseguire la testa della corsa in questa piccola coppa Agostoni presenti le migliori formazioni, la bandiera tricolore sventola quattro al comando ma poi si portano su di loro in primo momento Polivoda e poi Moser, Ignazio Moser eccoli ora sono in cinque, Bocchiola si è staccato, cinque pronti per la volata Ignazio Moser, Lucchini Costruzioni, Manivaschi, Polivoda, ecco Polivoda davanti Moser sulla sua ruota, testa a testa, testa a testa e vince, attenzione vince, vince Ignazio Ignazio Moser della Lucchini Costruzioni, Manivaschi, vince lui davanti a Polivoda, Gobbi, Fedi, Novikau poi arriva Bocchiola in sesta, poi ancora Tiozzo, ecco arriva Tiozzo, Bata, poi ancora Ceolan la treta del team Colpac e poi c'è volata del resto del gruppo, del resto dei 178 partenti ed è Rossi che regola Zanotti per il nono e decimo posto successo dunque, vedete il replay per Ignazio Moser, suo padre vinse, l'Agostoni, Francesco Moser testa a testa con Polivoda e all'Amelio Ignazio nella gioia della famiglia Lucchini Imerio, Alberto e tutto lo staff di questa grande famiglia Lucchini Costruzioni, Manivaschi, primo piano, sentiamolo Ignazio Moser Sì, oggi stiamo a far bene perché sentivo che con il freddo e la piozza è diventata una corsa dura e nel finale ho sfruttato un po' la debolezza delle squadre e sono riuscito ad andare a agganciare quelli davanti, poi in volata l'ho spuntata Sì, finalmente sembra che abbiamo preso il ritmo giusto domenica scorsa abbiamo fatto secondi con Dallacosta, oggi è andata bene questa vittoria la dedico ai miei sponsor, a Lucchini, a Tracolli che ci stanno supportando nel migliore dei modi e ci danno possibilità di fare tutto nel migliore modo possibile Ed il figlio d'arte naturalmente è felice, ecco l'Alberto Lucchini veramente un momento felice per questa piccola Agostoni la Lucchini Costruzioni Manivaschi, una formazione che si presenta con grande felicità in questa stagione 2011 abbiamo già visto i ragazzi lavorare molto sulle prime classiche d'inizio stagione è il podio, è il podio per Moser, per Polivoda e per Michele Coppi FVR batte a ciclismo, Polivoda con la maglia Mantovani lo straniero e poi è il momento bello dove Ignazio Moser, primo anno nella categoria ebbene, è già sul podio, è già vincitore Francesco Moser felice, ma sentiamo Alberto Lucchini e oggi abbiamo fatto una gran gara perché eravamo qui solamente in cinque elementi di cui quattro del primo anno ha vinto Ignazio, con quel tempo qua è come suo padre non lo ferma nessuno sì, è sicuramente un corridore dotato di buone qualità e quando la corsa si fa dura il ragazzo c'è sempre terzo gradino del podio per Michele Coppi batte a ciclismo e sentiamolo al nostro microfono ma contento per il primo obiettivo di quest'anno è un po' di ammarico c'è sempre perché non sono riuscito a raggiungere l'obiettivo primario però dopo una gara sotto la pioggia e in fuga è un ottimo risultato per me e per la squadra